e per gli occhiali da sole di questa settimana ho scelto i nuovissimi Wilex Grid sono degli occhiali multifunzione, multiruolo sicuramente progettati per le attività, per una vita attiva che però anche in città stanno benissimo, sono bellissimo e funzionano alla grande parliamo sempre di Wilex, quindi sono occhiali balistici che offrono una protezione integrale dell'occhio tutte le certificazioni le trovate su backpack.it questi sì, potete usarli anche al poligono, potete usarli al lavoro, in moto, in bicicletta qualsiasi tipo di attività, anche durante le escursioni e allora facciamo un riepilogo di quelle che sono le protezioni garantite da questi nuovi grid la prima protezione, la più importante in questo periodo schermano il 100% dei raggi UVA e UVB questo ragazzi è fondamentale bisogna proteggere gli occhi, bisogna proteggersi il sole può fare dei danni incommensurabili alla nostra vista quindi mi raccomando, indossate sempre degli occhiali quando siete all'esterno sono dotati di un rivestimento anti appannante questo perché, ve lo spiego tra un attimo arrivano con una mascherina che blocca le intrusioni sotto gli occhi però è possibile rimuoverla quindi senza problemi se vi dovesse servire la prendete da una parte e la rimuovete con ardore ecco fatto, non ce l'hanno più però avendo quel tipo di mascherina il rivestimento anti appannante si fa amare per la protezione contro i graffi c'è un altro rivestimento si chiama T-Shell che riduce il numero di graffi sulle lenti anche dopo diversi anni di utilizzo le lenti di per sé sono in policarbonato selenite infrangibili non si rompono per niente sono fatte per assorbire gli urti per assorbire i danni e per proteggere gli occhi quindi non si rompono e sono estremamente durevoli la montatura, il telaio è in Triloid che è un polimero tecnico leggero e resistente però funziona un sacco bene è il sigillo facciale la mascherina di cui vi parlavo che loro chiamano facial cavity è removibile ma è super comodo per bloccare il vento i detriti, la sabbia e anche la luce che dovesse arrivare in periferica durante la guida durante la motociclettate durante il deltaplano o qualsiasi attività in velocità parliamo chiaramente di occhiali dal design sportivo ancora di più la versione grigia che ho qui io se poi vi dovesse piacere un design un po' più tattico arrivano anche in O.D. Green ma una cosa che è importante capire è che sono occhiali studiati per le attività e si capisce bene dalle astine gommate sono gommate in tutta questa zona così come i naselli antiscivolo gommati sono caratteristiche che apprezzerete se iniziate a sudare se iniziate a navigare con la vostra barca a vela e vi serve qualcosa che resti fermo in posizione ve lo anticipo arriva comunque nella confezione anche un cordino e un elastico per poterli sistemare o più larghi o ben fissi in faccia a seconda di quello che dobbiamo svolgere certificazioni che posso ricordare un po' io sicuramente quella ANSI Z87.1 quindi anti-impatto di alto livello date un'occhiata a backpacko per capire che significa tutto questo così magari vi rendete conto anche di come rispettano la normativa EN 166F un'ulteriore certificazione di sicurezza è un po' noioso stare lì a guardarli tutti ma sono un'ottima idea come parco lenti potete scegliere tra i modelli captivate polarizzati è una tecnologia fantastica ne ho parlato ormai tante altre volte ma è sostanzialmente un modo più bello di vedere il mondo i colori sono più definiti non c'è confusione tra un colore e l'altro tutto il mondo è più bello fidatevi vi piaceranno se però cercate qualcosa di più semplice esiste anche quelle con il telaio nero hanno montate a bordo delle lenti diciamo classiche non hanno la tecnologia captivate c'è poi una versione con lenti trasparenti ottima per il lavoro ottima per i cantieri e chiaramente anche se dovete viaggiare di notte se non gradite gli occhiali colorati magari vi fa comodo avere una protezione al 100% compresa di mascherina per il vento e per i detriti ma non volete sicuramente di notte indossare degli occhiali da sole è vero o no nella confessione gli accessori inclusi cambiano leggermente tra i captivate e le altre lenti su backpack trovate i dettagli ma riceverete di sicuro con tutti i modelli una custodia semirigida il cordino per tenere al sicuro gli occhiali e poi tanti altri gadget che possono fare comodo in conclusione io considero i Wilex Grid una scelta eccellente per chi cerca una protezione affidabile in un design sicuramente sportivo e confortevole che chiaramente va dalle attività dinamiche in montagna e in giro alla guida delle moto o delle biciclette non finirò mai di consigliarli a chi fa attività in outdoor mi è capitato tante volte di ricevere oggetti detriti e cose in faccia quindi mi raccomando quando siamo in outdoor oltre a doverci proteggere per forza dal sole e dai raggi UVA UVB cerchiamo anche un livello di protezione meccanica dagli impatti Wilex è un marchio che stiamo conoscendo sempre meglio sono già disponibili tanti modelli con o senza la mascherina con o senza un look tattico ma sempre con un'ottima certificazione voglio farvi vedere come si inserisce magari la mascherina è semplice che neanche vale la pena farci un video eccola qui inserita e pronta a servirci se questa recensione ti è piaciuta lascia un bel mi piace qui sotto e iscriviti al canale per non perdere neanche uno dei prossimi video noi ci vediamo in giro anche sugli altri social alla prossima grazie a tutti